Come abbiamo addolcito il Consiglio? Tre professioniste di ottimo valore, soprattutto tre donne, era quello che io tenevo in questo bel Consiglio, nuovo. Le cariche un po' le avete viste, avete letto, niente di particolarmente nuovo, nel senso che poi si continua, quando c'è un bel gruppo che ha riaperto un bel ciclo, io sono sempre dell'opinione di non cambiare, compreso la mia posizione, io sono il patrone, sono un po' tutto, però c'è un Presidente che ha lavorato bene, è un Presidente operativo, quindi è giusto che si continui così, sotto la mia stretta sorveglianza, un po' di tutto, c'è un bel consiglio. Abbiamo avuto la conferma, ma per me era già confermato, ma l'abbiamo riscritto oggi del direttore sportivo Pradè, che forse non avevamo ancora capito, ma è qualche mese che è stato riconfermato, però era giusto sottolinearlo anche oggi. E niente, è particolare, particolare, proprio, niente, abbiamo, mi ricordo un po'? Team manager. Ah, scusate, team manager, sa. Una quota rosa anche, forse è la prima volta nel calcio che c'è una donna come team manager. Eh sì, questa è un'altra, una novità, ponderata, non è casuale, quindi poi avremo modo di parlare anche quest'estate, il ritiro, vedrete, sarà un'altra cosa molto molto interessante. Senti, posso fare domanda? Ah, subito mi fai domanda, vabbè, tanto ho quasi finito. No, 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 non volevo interrompere. No, 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 prego, prego. Volevo chiedere, una è questa, nel comunicato non si parla della figura di Guerini, volevo capire se non c'è, è stato riconfermato come ci sia... Eh, Guerino è lo staff tecnico, è lo staff tecnico di Montella, quindi poi, ripeto, quando inizierà, quando rinizierà anche il ritiro, avremo modo di riparlare tutti, sì, siccome la Guerini è parte della famiglia, lo è, lo è stato anche in momenti difficili, ci è stato vicino ed è stato molto importante, anche in momenti personalmente difficili, anche da parte mia, delicati, non difficili, che voi ben ricordate di qualche anno fa, quindi io lo ritengo uno stretto collaboratore della Fiorentina. Posso finire un attimo, chiedo, e poi invece volevo chiedere sul nuovo stadio, perché poi è venuto fuori questo contenzioso che la Fiorentina ha con il comune, o viceversa, ma comunque di 150.000 euro, questo è un freno, come pensate di... E' una cosa che ci chiede, guarda, in questo mese, è un mese importante, che poi ci dovremo ufficialmente incontrare con il nuovo sindaco, proprio per parlare del nuovo stadio. Questo mese? Sì, sì, entro luglio dovremo proprio confrontarci in un modo ufficiale, quindi ve lo dico anche questa sera. Poi chiariremo anche questa cosa, che è rimasta un po' sorpresa da qualche anno. Immagino che si sia parlato anche un po' di mercato, volevo capire in relazione alla situazione di Quadrado. La Fiorentina al momento come si pone e soprattutto se accetterebbe, se ascolta comunque eventuali offerte che arrivano per il giocatore? La situazione di Quadrado, per chi mi conosce, sa come ho gestito in passato tante altre situazioni come queste, perché sembra che ogni anno ne abbiamo sempre una. Quello che vi posso promettere, che posso promettere a tutti, che farò possibile. È un caso difficile, sono il primo a non nasconderlo. È un caso difficile, però l'esperienza che abbiamo mi fa pensare che potrei gestirlo in un modo per cercare di trattenerlo a Firenze. È il mio primo obiettivo. È un caso molto particolare, perché poi ogni giorno in partite questa visibilità mondiale non ci sta certo aiutando, però farò personalmente e farò il possibile per trattenerlo a Firenze. È stata stabilita una cifra, un'occhio, un'offerta? Non ci sono cifre, non si è parlato con nessuno, non si sta a sentire ancora nessuno, quindi poi il mercato non è neanche iniziato. Adesso noi abbiamo una rosa molto importante, abbiamo tanti giocatori di altissimo livello, alcuni non rientrano nei piani di Montella e quindi ci sarà sicuramente da sfoltire un po' la rosa, perché se non sbaglio abbiamo più di 40 giocatori, forse 40, addirittura 45. Abbiamo tanti giovani in gamba che serviranno anche i primi giorni di ritiro, c'è ancora una settimana, quello starà un po' a Montella, capire insieme a noi e al direttore sportivo. La stagione è lunga, dobbiamo arrivare a Moena, il vantaggio di quest'anno è che abbiamo le due punte di diamante, i Comercer Rossi, la certezza di averli, quindi saranno motivati l'uno o l'altro, per ovvi motivi, quindi averli a Moena già carichi e pronti insieme a tutti gli altri mi dà un grande ottimismo. Poi come ben sapete il mercato è lungo, la Fiorentina ha solo bisogno, oltre a sfoltire un po' la rosa, perché ne siamo veramente tanti, purtroppo, perché poi ci sono tanti bravi, quindi certe volte è anche un problema positivo, però è un problema averne così tanti. Quando si ha qualche ritocchi, l'ho sempre detto, con due o tre ritocchi questa squadra è super. Presidente, le volevo chiedere, visto che la Fiorentina dà un grande segnale stasera, è la prima ad avere alcune figure femminili nel CDA come team manager, le chiedo un momento sul calcio italiano, una sua riflessione, visto che si è dimesso il Presidente Federale Abete, tra l'altro una figura a cui la famiglia della Valle è anche legata, che idea sia fatta sull'eliminazione della nazionale e sul futuro del calcio italiano? Mi dispiace per Abete perché è un professionista serio, da tanti anni che ha dato tanto al calcio italiano, e conoscendolo è una persona molto seria, come lo è Prandelli, però quando si fallisce un progetto così, in un modo così forte, io credo che sia stato anche doveroso, e anche da rispettare per quello che ha fatto Abete, insomma ho avuto anche il coraggio di farlo. Eh sì, non è un bel momento, non è un gran bel momento uscire a primo turno, qua d'altronde errori se ne fanno, li facciamo tutti, e quando fai degli errori, certe volte quando rispondi a una nazione, non rispondi a una città solo, o una dirigenza, l'errore è ancora più atlatante, quindi se ne sono assunti le loro responsabilità, questo c'è solo da agli atto, no? Quando si paga, quando si sbaglia bisogna pagare. Ci sono lovità sui rinnovi di Pizarro e di Aquilani? No, tra l'altro noi abbiamo già dei rinnovi fatti, che poi vedremo nei prossimi giorni, che sono quelli di Borcavalero e di Rodriguez, Pizarro credo che appena torna dalle vacanze, è la prima cosa, il primo obiettivo, risedersi a un tavolo, sono convinto che se Montella lo vuole, noi lo vogliamo, ma anche il giocatore, credo che tranquillamente un altro anno rimarra ancora da noi. Vi siete detti che sarà una Fiorentina da Champions per l'anno prossimo? Eh, questa parola, quando c'era il quarto posto la Champions era sempre lì, no? Noi siamo sempre lì, terzo, quarto, ma guarda, la Fiorentina è competitiva, lo sarà ancora di più, come dico io, con un paio di innesti, e loro, i nostri direttori sportivi, sono stati bravi questi anni a riaprire un ciclo importante. Poi il nostro obiettivo è sempre quello, tra le prime sei, e poi vediamo un po' il mercato, però non nascondo che dobbiamo rimanere sempre in queste posizioni qui, anche se è sempre difficile, perché poi non tutti gli anni ti può capitare il Milan che magari fallisce la stagione o l'Inter, però essere ritornato sempre, soprattutto non fare neanche preliminari di UEFA è stato un grande obiettivo. Poi un'altra parola, oggi è un momento anche triste, perché la morte di questo ragazzo è una cosa che noi, purtroppo coinvolti indirettamente, anche noi come città, come tifoseria, come tutti, la ricordiamo quella serata, nessuno vorremmo ricordare, ci vogliamo dimenticare tutti di quella serata. Ovviamente bisogna, siamo molto vicini alla famiglia, in un momento veramente brutto, anche quello per il calcio. Però dobbiamo anche un attimino, lo so che adesso tutti, questi giorni, sembra quasi un po', quello che mi dispiace è aver letto in qualche giornale che adesso il fallimento della nazionale, guarda caso sembra che ritorni sopra a noi presidenti che gestiamo le squadre. Questo io credo che non sia assolutamente vero, anche noi abbiamo i nostri problemi, dovremmo parlarci tutti un po' di più e confrontarci, forse da queste cose, da questi drammi, da queste tragedie, dovremmo riflettere e capire cosa fare. Però che la mancanza di vivai, cosa che poi tante società come le mie non è vero, ma che tutto questo adesso, come hanno detto alcuni, sembra quasi che poi ritorni sempre sul calcio italiano, mi sembra un po' eccessivo, no? Fin dei conti sono tre partite che sono state, due partite, giocate male, e poi dopo l'Inghilterra bisogna essere tutti e avere un po' più di coerenza, no? Dopo l'Inghilterra c'era Super Mario, adesso il Super Mario è diventato, è diventata la colpa di questa eliminazione, cioè bisognerebbe essere un po' più equilibrati, lui ha avuto le sue colpe, è vero, Beh, Prandelli ha puntato tutto su di lui, magari anche Prandelli ha sbagliato, però onestamente dare a questo ragazzo tutte le colpe dell'eliminazione dell'Italia, onestamente mi sembra un po' eccessivo, no? Poi ripeto, adesso pensiamo un po' alla Fiorentina, che cosa realmente possiamo costruire ancora di più ambizioso per la nostra città. L'entusiasmo ce n'è, l'euforia c'è, la voglia, la voglia ne abbiamo tutti ancora tanta, io in primis, quindi c'è soltanto da ben sperare, no? Ma qui sta imminente? Ma gli acquisti, non te li posso dire, non te li posso dire. Adesso torno solo, è venuto anche un genio, Gianni, lui come membro esterno, però invitato permanente, sarà sempre partecipare anche ai nostri consigli, perché anche Gianni è una persona che è un po' la storia dalla Florenzia Viola, quindi una persona di grande spessore, che è anche lui nella famiglia della Fiorentina. Poi tutto il resto, la settimana prossima si ricomincia, quindi queste lunghe vacanze stanno per finire. L'ultimo abbraccio me lo sento di dare alla famiglia di questo ragazzo, ma onestamente siamo tutti vicini.